Galliera Veneta, ecco com'è ridotta l'abitazione di via Mottinello Vecchio andata a fuoco ieri pomeriggio. Si lavora per mettere in sicurezza l'edificio che attualmente è inagibile. La famiglia, che ha un neonato di appena 6 mesi, è fuori casa, costretta a farsi ospitare da parenti. All'origine del rogo probabilmente il malfunzionamento di una canna fumaria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Padova, Cittadella, Treviso e Castelfranco, con ben 20 operatori e 5 mezzi, tra cui un'autoscala. I pompieri sono riusciti a controllare l'incendio, tagliando le fiamme, evitando così l'estensione alla copertura comune e dunque alle altre abitazioni.